Gli Stati Uniti vogliono prolungare la guerra in Ucraina e stanno trascinando i loro alleati in un confronto con Russia e Cina. Il leader del Kremlin attacca di nuovo Washington e aggiunge che gli ucraini sono stati usati come carne da macello. Poi lascia al ministro della difesa russo l'analisi strategico-militare su quanto sta avvenendo sul campo. Al di là dei numeri e delle rivendicazioni, una dichiarazione sulla probabilità che vengano usate le armi nucleari. Non ne abbiamo bisogno, ha detto Shoigu, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Putin ha anche istituito un bonus di 16.000 euro per le madri che partoriranno dieci figli, un modo per arginare il calo demografico, dicono gli osservatori. Stamani in Crimea altre esplosioni in una base militare, probabilmente un'altra operazione lampo come quella che ha colpito l'aeroporto qualche giorno fa. Forse ancora un sabotaggio compiuto da un gruppo di partigiani ucraini che sempre di più operano nelle zone occupate. Anche perché da Kiev poco dopo è arrivata una dichiarazione che suonava come una rivendicazione. Con le esplosioni si legge nel comunicato. A inizio la demilitarizzazione della Crimea. Intanto si fa difficile la strada per un'ispezione dell'Agenzia dell'Energia Atomica Zaporizia. I russi avrebbero messo delle condizioni alla missione, ad esempio che gli ispettori non dovranno passare da Kiev. Ancora combattimenti in Donbass dove la linea del fronte si sposta lentamente verso occidente e Mosca guadagna posizioni. Ma non si fermano anche gli attacchi nella regione di Kharkiv e a sud, dove secondo l'intelligence britannica la Russia sarebbe in difficoltà soprattutto per il controllo del Mar Nero. Proprio stamani è partita, nell'ambito dell'accordo sullo sblocco dei porti, siglato a Istanbul, la prima nave delle Nazioni Unite carica di cereali diretta verso l'Etiota.